l'acqua si vede bene in facebook si si vede bene però si vede un'altra cosa arriva un po in ritardo su facebook qualche secondo va bene dai possiamo cominciare e bene prima di tutto io vorrei dire un paio di cose noi facciamo conferenze regolarmente in spagnolo due volte alla settimana e il venerdì cioè tra qualche ora dovrò dare una videoconferenza in spagnolo e il venerdì è per un gruppo di studio di santo domingo che stai studiando il ma barata quindi io do classe sul ma barata a un orario abbastanza improbabile per l'italia diciamo che abbastanza tecnico non è per tutti e per studiosi del ma barata anche le storie filosofia e se volete partecipare potete partecipare ovviamente libero e pubblico però si parla in spagnolo il sabato ancora in spagnolo una classe generale diciamo su argomenti generali questa settimana racconta la storia di veda dal pandit della divinità toda coppina che è una divinità molto particolare unica nel suo genere e chi parteciperà saprà perché e dunque poiché volevo dire in domenica do in inglese anche quello è un orario abbastanza improbabile per gli italiani alla 6 degli stati uniti quindi chi sono più o meno mezzanotte però chi soffre di insonnia può anche partecipare mi hanno chiesto di dare videoconferenze anche in italiano e io un po titubato perché non parlo l'italiano da vent'anni lo parlo solo con con ishwari non leggo niente in italiano quindi ci saranno un sacco di balbetti come si dice queste cose qua perché realmente l'italiano sta cominciando a diventare una lingua un po straniera per me però mi perdonerete insomma sono sicuro di questo poi che altro volevo dire come come introduzione volevo dire che visto che l'italiano un po lo conosco magari abbiamo pensato che probabilmente questo appuntamento sarà settimanale certamente non ho più contatti con l'italia quindi non so quanta gente verrà questo mi importa molto relativamente ovvio che se ci sono 100 persone sono più contento se non ci sono non importa perché poi questa registrazione viene tenuta per fare il futuro si mette su youtube si mette sul nostro sito ishwara.org e quindi nel corso del tempo saranno migliaia le persone che lo vedranno quindi io ogni ogni venerdì a questa ora mi collego siete benvenuti se non c'è nessuno leggo qualcosa da qualche spiegazione immaginando una platea virtuale dunque io per cominciare volevo intanto fare una cosa che tutti i devoti fanno lo fanno sempre cioè per benedire l'atmosfera recitiamo alcuni mantra e questa è una cosa di obbligo per noi obbligo morale non è un mio spirituale e questo mantra che io recito sempre prima di connettermi si chiama Mangalacharana l'ho trovata anche da fare una chitta chi lo conosce lo può recitare con me se no potete potete semplicemente ascoltare om ajnana timirandasya jnananjana shalakaya jakshuron militan yenata smai shri gurave namah shri chaitanya manovishtham sapitam yalabhotale svayam rupakadam ayam dadati svapadantikam vandeham shri guro shri yota pata kamalam shri gurun vaishnav runcham shri rupansadra jatam sahaganaragunatam utam utam sa chivam sadvetam savadutam parijana sahitam krishna chitam nyadevam shri rada krishna padam sahaganaragunatam utam ca he krishna karuna sindo dina vando jagatpate kupesha gupika kantarada kantanam ustute tapta kanchanago rangirade vrindava nishwari vrishabhano sutte devi pranam ami haripriyem ancha kalpata rubyascha kripa sindubya evacha patitanam pavanepyo vaisna vebyo namo namah shri krishna chaitanya pravonityananda sadvetagadada srivasati gaura bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Dunque facciamo in questo modo e cioè che io parlerò di qualcosa per 10-15 minuti se qualcuno di voi ha qualche domanda e vuole chiedere qualcosa è benvenuto a scrivere nella chat di Zoom dicendo vorrei fare una domanda ho pensato in questi giorni di cosa parlare come prima volta e non sapendo chi veniva nelle altre in spagnolo particolarmente conosco molto bene il mio pubblico di base e so di che cosa parlare e qui ho pensato che cosa dire un devoto sapendo che c'era la videoconferenza non c'è adesso in questo momento però mi ha fatto una domanda che è una domanda molto comune che si fa spesso ai devoti perché la gente vuole sapere per quale ragione uno diventa devoto ho pensato va bene allora visto che quest'anno cade il mio ventesimo anno di essere andato via dall'Italia e il mio 46esimo anno di essere devoto di Krishna ho pensato va bene diciamo qualche cosa tanto si riaggancia velocemente alla coscienza di Krishna quindi non sto parlando di me perché magari di me a voi potrebbe interessare poco e dunque perché uno diventa devoto ognuno ha ragioni diverse magari anche leggermente diverse la mia ragione era che come spiega la parte della nostra filosofia che si chiama pre-credit attua è che uno a un certo punto della propria vita ha una realizzazione di che cosa è il mondo in cui vive mondo in cui vive è un luogo dove qualsiasi cosa che si ha è uno temporaneo sappiamo che qualsiasi cosa che abbiamo talvolta anche ottenuto con grande fatica così come ha avuto un inizio avrà una fine questo a me quando ero giovane, ragazzo perché io sono diventato devoto che avevo 18 anni ora ne ho 65 però nonostante che ero molto giovane a quell'età si pensa a tutt'altro e non alla filosofia io invece ci pensavo e dicevo io ora ho 18 anni e presto ne avevo 65 infatti ho ragione ho avuto ragione diciamo questa è una cosa che a me preoccupava perché mentre alla nostra età si parlava tra le altre cose di avventure a me l'avventura di andare a caccia dell'eternità era una cosa che mi interessava se esisteva io volevo trovarla è una grande avventura quindi ho cercato in vari luoghi niente mi interessava o mi stuzzicava in maniera particolare fino a che ho incontrato il mio maestro spirituolo questo è il primo problema quello che noi chiamiamo devoti in gergo devotesco la vita materialistica la vita materiale a me risultava un po' stretta per la ragione che tutto ha una fine e allora mi chiedevo perché devo sprecare la mia vita cacciando una cosa che tanto non puoi finire la seconda ragione è che anche quando uno riesce a ottenere quello che ha tanto desiderato quella cosa non riesce mai a soddisfarti manca sempre qualcosa è molto limitato quindi ci sono due situazioni quando uno desidera qualcosa possono succedere due cose uno è che riesce a ottenerla e la seconda è che non la ottiene se non la ottiene è frustrato perché non la ottiene ma quando uno la ottiene è ancora di più frustrato perché dice tutto qua c'è tutta sta faticaccia l'ho fatto finora per raggiungere questa cosa e poi realmente mi manca non mi completa manca realmente profondamente il senso di quello che ho fatto questi ragionamenti io me li facevo quando avevo 14, 15, 16 anni fino a quando al mio diciottesimo anno di età i devoti benedetti del disco magnifici devoti alla fine del 73 sono venuti a Roma dove io vivevo e hanno aperto un tempio questo alla fine del 73 e io li ho trovati nel 74 perché loro in tutta Italia pensate un po' hanno aperto il tempio a 100 metri da casa mia dove io vivevo quindi io li vedevo passare con questi vensuoli addosso e con queste teste rasate e per me era una visione non fuori dal comune perché fin da quando ero piccolo ma piccolo mi interessava dell'India e quindi già vedevo foto in televisione anche questa gente vestita in maniera alternativa alla nostra e mi interessava volevo sapere chi erano questi però non era come dire non era realmente non ero affascinato non era un'esplosione nel mio cuore diciamo ho trovato la mia via la mia via no ancora non era quello che io cercavo verso marzo marzo-aprile sempre del 1974 arriva Silla Prabhupada a Roma in Italia e i devoti riempiono la città di manifesti locandini e per tutto e in forme molto mistiche io generalmente non mi piace neanche parlare di queste cose perché sono molto intime comunque in due parole semplicemente per una ragione chissà quale ho pensato ho avuto la realizzazione che lui era il mio maestro spirituale e vi dico che certamente non è stato il primo maestro indiano proprio che avevo incontrato ne avevo incontrato un sacco dovevo addirittura prendere iniziazione da il famoso Maharishi quello dei Beatles quindi tutte queste cose certamente non mi hanno lasciato nessun segno mentre solamente le immagini di Silla Prabhupada mi hanno lasciato il segno quando sono andato a visitare il Tempio di Krishna ho pensato che che se i devoti erano i discepoli del mio maestro allora andavano bene sono diventato devoto nel settembre ottobre nel 74 e via dicendo e quindi volevo dire quale volevo dirvi qual era il concetto principale che mi ha colpito quando sono diventato devoto è stata una frase che che se uno ci pensa bene è una frase rivoluzionaria che ti dice qualcosa di molto semplice però che ha una potenza di impatto incredibile se uno riesce a capirlo se uno riesce a percepirlo nella maniera giusta e questa frase questo concetto era che noi siamo anime spirituali non siamo il corpo materiale questa è una cosa che sicuramente tutti voi avete sentito mille volte è una frase ormai che si dice come dire ciao uno entra al tempio e sente uno che dice tu non sei il corpo quando io sono diventato devoto quando andavo come ospite al tempio di Krishna questa frase apparentemente semplice e banale realmente mi ha lasciato il segno perché è di una potenza di una chiarezza incredibile questo spiegava tutto quello che io avevo immaginato sentito nel mio cuore senza dare una spiegazione filosofica la spiegazione filosofica la ragione per cui non ero soddisfatto della vita che facevo è che io non sono parte di questo mondo ed è per questo che io non ne sono felice non mi sono soddisfatto cioè io sono di un altro mondo non sono il corpo e quindi i miei genitori non sono i miei genitori mio fratello non è mio fratello e via dicendo la mia nazione non è la mia nazione tutto questo era un'illusione era un incidente si potrebbe chiamare un incidente di percorso durante la mia come si dice in italiano la mia il mio percorso diciamo così di corpo in corpo e incidentalmente in questa vita sono inciampato e sono entrato nel ventre di una donna italiana romana e sono nato e vissuto a Roma gli incidenti generalmente sono un piccolo segmento di tempo certamente non cobrano un'esistenza completa e quindi il fatto di tu non sei il corpo materiale per me era un'esclusione filosofica una realizzazione che io realmente non ero parte di questo però la domanda seguente ovvia è se io non sono questo corpo che cosa sono e allora la seconda parte della frase non sei questo corpo sei anima spirituale completa il concetto non ti lascia sospeso non non ti lascia come dire come dire nel dubbio va bene ho capito questo mondo ok tutto bene tutto perfetto e allora concretamente che succede che mi che mi significa questo sono anima spirituale quindi c'è la materia c'è lo spirito che cosa è lo spirito allora e questo è che cosa è lo spirito è l'argomento principale o almeno uno degli argomenti principali della coscienza di Krishna del movimento che si la prova ha fondato che è una scuola è una scuola dove si insegnano i principi fondamentali della spiritualità che significa io sono un'anima spirituale perché questo è l'introduzione però un libro non si scrive solo come introduzione un libro poi ha bisogno dei capitoli di raccontaci la storia ecco dunque il movimento per la coscienza di Krishna insegna che cosa è lo spirito come uno spiritualista deve vivere come uno spiritualista deve pensare come uno spiritualista deve vedere quali sono i valori sopra i quali costruire la propria vita questo era l'ISCON il movimento per la coscienza di Krishna e quando io da giovanotto dopo poco poche settimane che andavo a visitare il tempio ho capito che questo non erano solamente quattro scalmanati che ballavano o erano quattro indianoidi perché erano tutti italiani qualche americano qualche svizzero non ricordo ma erano avevano qualcosa di solido dietro dietro di loro e avevano una scuola cioè vivere dentro il tempio significava andare a scuola e uno se più uno va a scuola più impara e quindi ho pensato se a me l'argomento interessa così tanto perché non dovrei andare a scuola 24 ore al giorno visto che le altre cose che io posso imparare non andando a scuola non mi interessano realmente tanto o le cose che posso avere durante la mia vita non da spiritualista mi piacciono molto relativamente per quale motivo non devo andare a scuola 24 ore al giorno e allora un bel giorno di ottobre mi pare così settembre ottobre non ricordo però era autunno mi sono rassato la testa come sto ora e sono diventato un un devoto di Krishna e la mia vita nell'Asheran come Bramachari è stata un'esperienza incredibilmente potente io consiglio tutti di fare un'esperienza magari non i 30 anni 20-30 anni che ho fatto nell'Asheran io vivendo in comunità insieme nella stessa stanza con tanti altri devoti se uno non vuole fare questa vita non gli interessa fino a questo punto va bene però io consiglio tutti di fare un'esperienza almeno di un poco di tempo di vivere in un Asheran perché la coscienza di Krishna la vivrete da una prospettiva molto diversa che è semplicemente venendo venendo in un tempio da ospite che va bene cioè anche quella è un'esperienza forte imparerete molto della coscienza di Krishna però realmente vivere un periodo della coscienza di Krishna io lo consiglio a tutti fortemente ora veniamo di entrare un po' nel primo capitolo di che cosa significa ripeto che se qualcuno ha qualche domanda me la metta nella chat così sono cosciente che devo lasciare il tempo per le vostre domande magari soltanto ho una domanda vediamo ora qual è il primo capitolo del libro che ha come introduzione io non sono questo corpo io sono un'anima spirituale che significa di fatto di fatto uno dei concetti primari è sicuramente l'esistenza o meno di Dio perché uno dice beh io posso fare vita spirituale però non necessariamente Dio deve entrare in questa immagine posso fare vita spirituale anche senza che ci sia un Dio che sono varie correnti filosofiche come per esempio la famosa Mayavada filosofia del tutt'uno o il buddismo che fanno vita spirituale però senza ammettere l'esistenza di un Dio né che loro dicono che ci sia veramente bisogno dell'esistenza di un Dio che è un po' lo stesso concetto che dicono e affermano i scienziati materialisti che dicono che una delle ragioni principali per cui Dio non esiste è che non c'è bisogno di Lui che la creazione può essere avvenuta anche senza la presenza di un Dio e quindi diciamo che questi sono dibattiti che vanno avanti da migliaia di anni certamente in pochi minuti di una videoconferenza non possiamo affrontare tutte tutte le argomentazioni in favore o contro che vengono offerte dalla nostra filosofia dalla nostra controparte l'esistenza di un Dio è senz'altro una cosa che soltanto una religione a livello dei totem e dei siux possono dire che non esiste perché tutto quello che esiste in questo mondo ci parla di un Dio se io vi dico tu non hai mai avuto un padre o una madre tu mi dici beh magari non li conosci però ce l'ho avuto io dico provamelo ma la mia esistenza stessa è una prova dell'esistenza di un padre o di una madre perché non si è mai visto qualcuno nato e cresciuto senza un padre o una madre se io vi dico che l'edificio in cui vivo non l'ha fatto nessuno che c'è stata un'esplosione un grande big band qualcuno mi aveva messo un po' di cemento di ferro di acqua in un posto e poi boom mi aveva venuto fuori un edificio con le stanze gli appartamenti voi mi dite tu sei tu hai qualche problema mentale ed è la stessa cosa che diciamo noi agli scienziati perché realmente non c'è nessuna spiegazione plausibile che dell'esistenza di un creatore perché creazione come effetto implica necessariamente la presenza di un creatore è illogico pensare a qualsiasi altra cosa io personalmente quando io sono rilacciandomi a un po' così alla mia storia che potrebbe essere anche la storia di tutti voi io non credevo in Dio era abbastanza ateo la ragione era per la profonda delusione della della religione in cui ero nato essendo nato a Roma ovviamente ogni dieci passi che fa incontri una chiesa quindi era normale che io però la delusione verso questa religione mi ha portato a essere molto scettico perché quando non ti piace qualcosa specialmente i giovani hanno la tendenza a rigettare tutto alla nostra alla mia età già già dici se una cosa mi delude taglio questo pezzettino che mi ha deluso però c'è tutto il resto quando sei giovane e pieno di energia quando non ti piace qualcosa cancelli tutto e dici addio buonanotte non ci credo non mi convincete non siete persone per bene e c'è quindi quando sono arrivato al Tempio e anche negli altri cosiddetti duro che avevo incontrato prima la cosa di Dio per me era il concetto di Dio per me era primario perché io non credevo che potesse esistere un Dio quando ho scoperto che gli Hare Krishna e che colui che avevo per una ragione mistica inspiegabile accettato come il mio maestro spirituale credevo in Dio per me è stata una cosa che inizialmente mi ha dato un po' fastidio e quindi ho messo una come dire fatto partire un dibattito e giornate intere su questo punto tanto che i devoti quando mi vedevano arrivare scappavano perché insomma ero troppo questo ragazzino che arrivava che voleva sempre dibattere e voleva sempre litigare filosoficamente eccetera eccetera quando quando qualche devoto è riuscito finalmente a spiegarmi per quale ragione Dio doveva esistere che non poteva non esistere un devoto mi ha detto questo mi ricordo Dio esiste perché non può non esistere è una cosa di una elevatura si dice elevatura elevazione enorme perché se uno ci pensa realmente tutta la realtà ci parla obbligatoriamente della presenza di un Dio quindi se poi non lo vedi questa è un'altra cosa anche l'America non la vedete però può dire che non esiste non siamo dei santo maso che crediamo solo a quello al che possiamo toccare è evidente che i sensi fisici questo il tatto la lingua eccetera insomma sono molto limitati l'intelligenza è sicuramente più sviluppata e ci porta molto più lontani quindi durante questi dibattiti infiniti con questi devoti sono giunto a conclusione che magari a me non piaceva che Dio esistesse però Dio doveva esistere al di là del mio gusto e durante il tempo che io vivevo al Tempio io vedevo che questo Dio era molto più attraente di un Dio di un altro di un'altra religione e questo Dio faceva delle cose incredibili io non ho mai pensato che un Dio potesse fare io ho sempre pensato che un Dio dovesse avere i muscoli di schwarzeneg avere il fulmine che se fa qualcosa ti fulmina ti butta all'inferno e che era una cosa che mi spaventava dico io ma se il paradiso dovesse essere così io non ci voglio mica andare perché almeno in questo mondo c'è qualcosa che si chiama la finalità la morte cioè quindi se non mi piace questa vita almeno arrivo il giorno che mi tolgo tutta questa storia da donna ritorno muoio e basta ma il paradiso è eterno dico se a me non mi piace sto paradiso devo vivere per l'eternità in un posto che non mi piace questo per me era un grande problema io non voglio andare in un luogo dove Dio ha i muscoli con un fulmine nella mano e quando ho scoperto che Dio non aveva i fulmini ma aveva un flauto nella mano io ho detto beh questa è un'altra storia e chiaramente non è non è facile un po' giustificare per quale ragione Dio dove debba avere un flauto nella mano ma questo è un concetto molto più profondo che poi insomma non possiamo parlarne ora ma ne io l'avevo capito nei primi tempi però quello che io ho scoperto è che Dio aveva un posto che era molto attraente un posto dove io avrei voluto vivere un posto eterno che è Sat si chiama Sat Shakti l'energia di eternità che esiste nel mondo spirituale e che aveva però anche due altre caratteristiche l'una era che mai si finiva di imparare la curiosità essa è C Shakti quella che noi chiamiamo la conoscenza la conoscenza viene dalla curiosità e io all'idea di andare in un luogo dove già so tutto quello quel poco che c'è da sapere su Dio che devo fare il bravo che non devo sgarrare perché sono Dio mi furia mi manda all'inferno per me questo era peggio dell'inferno perché io da giovanotto avevo una curiosità molto forte volevo a me sarei riusciuto un Dio che mai avrei terminato di conoscere questa è una cosa incredibile quando i devoti mi hanno spiegato che una delle caratteristiche divine era eternità e conoscenza eterne e sempre dinamiche che si sviluppano per me mi si è aperto l'amore mi piaceva l'idea di andare in un luogo dove anche quando io mi fossi perfezionato e fossi andato nel mondo nel mondo spirituale io avrei potuto continuare in eternità ad avere cose da conoscere e poi chiaramente siccome non siamo aridi filosofi o aridi come dire persone aride che che vivono per vivere ma ci piace anche come dire non so in italiano provare piacere no? ecco il piacere Ananda Shakti è stata un'altra delle caratteristiche del mondo spirituale che non solamente è l'eterno non solamente si può continuare per l'eternità a conoscere ma è che è un luogo dove uno può gustare una vita di piacere e allora questa storia a me mi piaceva i devoti mi spiegavano questo ma chiaramente i devoti dell'epoca erano giovanotti poco più adulti di me qualcuno anche più giovane di me ed erano anche filosoficamente spiritualmente molto giovani ricordando quello che mi dicevano adesso ogni tanto mi viene da sorridere perché insomma erano quasi un po' da ragazzini nonostante questo devo dire che che realmente i primi devoti italiani facevano uno sforzo incredibile di spiegare cose difficili in maniera in maniera facile che io potessi potessi capirlo e questo nonostante l'inesperienza la limitazione di conoscenza di capacità come dire comunicativa che avevano certamente erano erano ad ammirare i primi devoti italiani io realmente li ricordo tutti senza nessuna distinzione con molto molto piacere e con molta ammirazione anche devo anche ringraziarli perché ora sono qui a parlare di coscienza di Krishna vestito come un cigno un bianco pulito e tutto lo devo sicuramente allungare dunque adesso termino quindi io ho imparato due cose prima cosa che io non sono il corpo materiale non sono uomo non sono bianco non sono italiano non sono americano sono un'anima spirituale e per sapere che significa uno dei prati studiare e praticare la coscienza di Krishna quindi il secondo concetto è che esiste un Dio io ho una relazione eterna con Lui una relazione che si è interrotta o sospesa dovrei dire temporaneamente che però può essere riattivata semplicemente attraverso la disciplina le discipline della coscienza di Krishna così come ci dicono i grandi acciari i grandi maesi spirituali della zona ora io vorrei lasciare un po' di tempo alle vostre domande se ci sono spero di sì non fate gli spagnoli sono incredibili si litigano nel momento che devono fare le domande gli spagnoli intendo quelli che parlano spagnolo io vivo in una isola dei Caraibi si chiama Porto Rico viaggio per questa zona per la zona del Caribe e l'America centrale dove si parla spagnolo e sono curiosissimi vogliono sapere tutto chiedono qualsiasi cosa quando vado in particolare a Santo Domingo a Repubblica Domenicana ma anche a Porto Rico anche a Costa Rica eccetera veramente non si può terminare non mi fanno terminare chiudo la porta e entro dalla finestra questa è una battuta quindi io volevo adesso fare pochi annunci ecco per esempio il servizio principale di mia vita è scrivere libri io ne ho scritti 24 nella mia vita il 25esimo uscirà nei prossimi giorni e 15 in italiano questo l'ho scritto già negli anni 80 90 da quando sto qui ovviamente non scrivo più 15 in italiano dicevo 6 in inglese e 3 in spagnolo il prossimo che sarà sarà in inglese quindi qui come vedete qua sopra questo è il bookstore isfara.org dove potete andare ad acquistare i miei libri non c'è niente che mi fa più piacere di questo perché questo faccio io mattina e notte faccio questo quindi è ovvio che voglio che devo questo è il blog che tutti voi meno Nadia conosce perfettamente il blog dove sapete tutto quello che facciamo sapete quando ci sono le videoconferenze gli articoli che ogni giorno pubblicamo potete registrarvi ovviamente gratuitamente quindi chi di voi cioè Nadia se vuole registrarsi sta qui isfara.org slash blog e dunque al blog iscrivetevi se vi piace un articolo mettete i like questo è importante perché mi dà l'idea che quello che ho scritto o quello che abbiamo scritto in generale è di vostro piacere isfara.blog e poi che cosa potete scrivere gli articoli Remananda per esempio lo scrive ogni due settimane pubblica alcuni articoli di cucina ovviamente vegetariana e potete commentare no a fare domande ovviamente su isfara su isfara blog bene allora mi piacerebbe adesso ricevere qualche domanda qualsiasi allora parlo io mi sentite bene Hare Krishna io e Nadia avevamo preparato quattro domande e due ce le hai bruciate nel senso che ci hai raccontato infatti sta facendo di sì Nadia perché le prime due domande erano proprio ci piacerebbe molto che tu ci raccontassi come hai incontrato Krishna e la seconda e quella hai proprio assolutamente risposta la seconda era in che modo questo incontro ha cambiato la tua vita e direi che in parte hai risposto anche a questo e quindi ne sono rimaste solo due a me e Nadia rubo a Nadia una delle due come possiamo conciliare la fede con questo mondo così materiale frenetico che spinge a non avvicinarsi alla spiritualità Sì beh per quanto riguarda le prime due domande ovviamente si può elaborare di più magari in futuro avremo occasioni se mi riproponete le stesse domande posso dire qualche raccontare qualche dettaglio in più perché ovviamente ho detto due parole su tutto però la terza domanda adesso rispondo bene io come ho accennato e forse l'avrete intuito io da ragazzo ma persino ora ho qualche problema con la fede con la parola con il concetto della fede perché da ragazzo io pensavo che la fede fosse posso raccontare un aneddoto quando io andavo alle medie la religione era una materia obbligatoria in Italia e quindi avevamo un'ora settimanale il sabato mattina dalle otto e mezza alle nove e mezza o dalle otto e nove ti ricordo di religione e veniva un sacerdote sempre il professore era un sacerdote e io come facevo come ho infastidito i devoti per per varie settimane infastidito il professore avevo undici anni con le domande di religione di filosofia e lui alla fine si stancò di me e mi disse che le domande erano l'azione del diavolo e che la religione è questione esclusiva di fede ora a uno come me potete immaginare che sono no? potete immaginare che effetto ha fatto una risposta del genere perché non era una risposta di un infastidio era proprio così perché poi vivendo in una città molto cattolica era non solamente il cattolicesimo la stessa cosa ho trovato con altri guru con altre cose che io dovevo avere fede questo professore mi spiegò che se io non avevo fede io andavo all'inferno messa un po' semplicemente io gli ho chiesto professore senta undici anni mi ricordo chiaramente con altre parole che l'avrò detto io gli ho detto senta ma a me chi mi ha fatto mi ha fatto Dio allora se io non ho fede e sta fede non me l'ha data Dio ma perché io devo pagare per una cosa che un altro mi ha dato non mi ha dato cioè se non avere fede è un peccato lui non me l'ha data sta fede quindi ci va da lui all'inferno però si arrabbiò moltissimo quando gli disse in questa maniera e per me quando io sono cresciuto un po' questo concetto anche se un po' duro realmente mi ha mi ha un po' infastidito per molto tempo perché non riuscivo a capire come questa storia della fede come dovesse essere quando incontrerei il mio maestro spirituale io non ho mai sentito da lui la parola fede e sempre lui mi diceva try to understand try to understand try to understand lui scriveva libri 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 e rispondeva domande 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 sta parola fede io ho conosciuto proprio personalmente sono stato con lui una settimana questo concetto della fede cioè che uno per essere devoto deve avere fede deve credere non importa se ha capito o no io non l'ho mai sentito da lui al contrario io ho sempre sentito da lui e capito da lui che Krishna si poteva capire non tutto ovviamente però quel poco sufficiente per poi avere fede in ciò che ancora non si può capire allora questa allora la parola fede che è un tipo di fede ragionevole diciamo è una cosa che a me faceva no fare senso questo è in inglese mi faceva mi dava come si dice in italiano aiutatemi mi dava aveva un senso aveva un senso che io Dio non lo posso mai capire per l'eternità non potrò mai capirlo tutto per fortuna che non posso capirlo tutto perché se no poi la conoscenza finisce però non è che non è che bianco o negro non è che se io non posso capire tutto allora non posso capire niente è qualcosa nel mezzo ci sarà posso io capire quello che è sufficiente per poter credere in ciò che ancora non posso capire non posso realizzare e questo a me mi diceva e Shilapagopada che è uno dei geni filosofici più grandi della storia dell'umanità sicuramente nel secolo passato è stato il numero uno era una cosa che realmente mi ha dato molto molto effetto mi ha colpito molto questo fatto che per la prima volta una religione che poi sta parola religione bisogna capire che significa perché magari non possiamo parlare di questo in un paio di minuti però tutte le regioni avevano questo concetto di fede e io sta fede la vedevo come un insulto alla mia intelligenza perché non posso capire perché io devo credere una cosa di cui non ho nessuna informazione di cui non ho nessuna esperienza diretta di cui io non posso non posso ne avere una percezione non so a livello di emotivo o chissà quali altri livelli no la fede Dio esiste perché esiste punto e questo a me è proprio non lo digerivo in nessuna maniera quando sono diventato devoto di Krishna vedevo che la fede non aveva nessun significato perché avevo detto ai devoti che io mi ritenevo ateo no e nelle mie dibattiti con loro anche quando ero vivevo nel tempio io mi professavo ateo no e allora i devoti mi dicevano vabbè non credi a dire vabbè cantare in Krishna e poi un giorno capirai che ci hai tolto effettivamente così così è stato cioè che per fare vita spirituale non è necessario obbligatoriamente credere preventivamente all'esistenza di Dio questo significa che la coscienza di Krishna è una scienza non è una religione perché le religioni nell'accezione normale della parola le religioni si basano su un'accettazione prima tu accetti Dio e poi tu sei un religioso la coscienza di Krishna dice un'altra cosa dice prima tu capisci e pratichi la coscienza di Krishna e poi tu puoi avere la fede e la fede è uno strumento basato su una conoscenza e su una realizzazione parziale che ti permette di avere di avere diciamo la forza l'interesse anche di continuare nella ricerca di Dio nella ricerca di Krishna perché se tu non hai nessuna conoscenza e non hai nessuna realizzazione perché dovresti continuare uno che dice ma io non so voi non mi spiegate niente io non ho nessuno al canto di Krishna non mi viene nessuna esperienza vuol dire che questa cosa non va non funziona e questo non è non è così noi dobbiamo essere capaci a comunicare la filosofia della coscienza di Krishna per per agganciarci all'intelligenza delle persone per entusiasmarle per interessarle diciamo così alla pratica della delle discipline della coscienza di Krishna perché in questa maniera tra conoscenza e realizzazione parziale uno acquista interesse per perseguire maggiormente la vita la vita devozionale quindi ecco quindi mi sto sorprendendo come riesco a parlare italiano come va il mio italiano? benissimo sì benissimo mi stupisco anch'io dopo tutti questi anni di spagnolo bene mi sto venendo fuori chissà da dove quindi questa è la prima domanda mi arrivano altre domande qui in chat però la seconda Ramananda se vuole darla la seconda se vuole darla direttamente Nadia così sentiamo la sua voce ah ok Hare Krishna io volevo sapere come possiamo appunto ricollegandoci anche alla domanda precedente trovandoci in questo mondo così corrotto così materiale così sordo a tante cose come possiamo noi essere ad esempio intanto dobbiamo capire qual è l'esempio cioè qual è giusto esempio nel senso che se uno come riagganciandomi a quello che dicevo qualche un minuto fa insomma che uno deve sapere che cosa è la vita spirituale allora se uno non sa che cosa è un esempio magari è convinto di star dando un buon esempio invece sta facendo l'opposto sta dando un buon esempio quindi la conoscenza rimane sempre il numero uno e come si come si ottiene la conoscenza beh fondamentalmente noi abbiamo tre fonti tre fonti di conoscenza che è il guru il maestro spirituale abbiamo Shastra che ci sono le scritture che ci sono state lasciate e il terzo è Sadhu chi sono i Sadhu Sadhu sono i grandi maestri a livello se non di più del proprio maestro spirituale della storia che ci hanno lasciato un'infinità di scritture di esempi di conoscenza in genere queste sono le tre nostre fonti di conoscenza solide senza le quali non possiamo fare avanzamento spirituale infatti vedono una domanda di Isfara Das sul maestro spirituale alla quale risponderemo fra un paio di minuti quindi intanto noi dobbiamo essere di buon esempio ci mancherebbe altro però che che significa uno può dire magari mangiare la carne che va bene è un buon esempio sto mangiando sto dicendo ma te nessuno ti ha detto che mangiare la carne è un assassino qual è la necessità di mangiare carne nessuna nessuna la mia pancia è una è una è una prova 48 anni io già ero vegetariano prima di essere devoto ho avuto un figlio vegetariano e uno dice vabbè tu però hai mangiato carne quando eri piccolo va bene ma i nostri figli sono nati cresciuti vegetariani stanno benissimo non gli manca niente quindi diciamo che la conoscenza è la cosa numero uno quando uno capisce quali sono le cose giuste allora può praticarle in modo da essere un buon esempio essere vegetariani sicuramente il numero uno nel senso che la prima cosa che uno che uno nota o che uno che uno deve deve dire alla gente perché tu non puoi dire essere uno spiritualista e ammazzare animali senza nessun esempio lo spiritualista è non violento per eccellenza per definizione lo spiritualista è pacifico lo spiritualista è buono lo spiritualista è pulito fisicamente mentalmente nella parola nella parola no? e quindi come si fa a dire io sono uno spiritualista dopo aver ammazzato un animale e mangiarselo io necessariamente fossimo in un'isola deserta dove o mangiamo un animale o moriamo allora magari se ne potrebbe pure discutere ma insomma questo non ne si sa poi come si fa a dire uno spiritualista con la droga o con una sigaretta in bocca o con non lo so prendendo intossicanti una bocca cos'è un intossicante? l'intossicante è una cosa che come dire modifica il tuo stato naturale va bene? quindi se tu prendi un intossicante e tu stai dicendo alla gente guarda io sono devoto però per stare bene ho bisogno di qualcosa di artificiale e la gente dice allora la coscienza di Cristo non funziona è perché scusa se tu stai dicendo che la coscienza di Cristo è una cosa bella è l'estasi nei vostri libri si parla di estasi e poi tu sei così tanto miserabile della tua vita che non riesci neanche a vivere tranquillamente senza intossicarti allora tu stai come dire stai negando quello che tu stessa stai dicendo di fare e stai dicendo di essere quindi gli intossicanti dopo la carne è il numero due il devoto è una persona che ama tutti e il devoto è uno che è contento della sua vita va mettiamolo semplicemente e non ha bisogno di agenti esterni per restare bene interamente dopo di questo abbiamo tanti altri principi che noi chiamiamo principi regolativi o principi di disciplina diciamo no? questi due sono probabilmente i principali per quanto riguarda dare un buon esempio quindi io ti consiglio dare un buon esempio e intanto io non ti ho conosco magari sai tutto della nostra filosofia però ti consiglio di leggere i nostri libri di venire alle videoconferenze di fare domande di fare tutte queste cose in maniera tale che tu vieni a sapere che significa dare il buon esempio grazie di niente molto piacere vorrei rispondere alla domanda di Iswara Das ci sono molte di domande venisse una ragazza sul maestro spirituale ecco due domande ha fatto una è una domanda che mi viene fatta più spesso sai è difficile fare una casistica dopo 46 anni non lo so poi dipende dai periodi storici perché quando noi eravamo giovani molto giovani la domanda molto comune era ma perché tu sei devoto no? cioè tu italiano romano di buona cultura cioè io venivo da una famiglia media diventa così culturalmente insomma non ero altri devoti invece venivano l'esperienza della droga e mi chiedevano sempre ma tu ma che stai a fare qua no? e quindi questa è la domanda che mi viene da più spesso adesso è diversa adesso la gente ci conosce ormai sono 50 anni che esiste gli iscon in occidente ormai che stai a fa qua non me la fa più nessuno probabilmente la domanda che fanno più spesso riguarda il mantra del Krishna perché lo cantiamo ecco questa è una domanda che magari possiamo rispondere fra un po' no devo dire che adesso non c'è più una domanda ricorretta perché poi tra l'altro bisogna dire che il livello dovuto al fatto che quando io sono diventato devoto non c'era nessun libro c'era una sola rivista in italiano e io così balbettavo un po' di inglese e studiavo c'erano anche libri di inglese e i libri di inglese sono venuti dopo c'era qualche libro in inglese quindi io mi sono buttato a studiare l'inglese e alla fine sono riuscito a leggere però quando io sono diventato devoto in italiano c'era solo una rivista quindi immaginate e adesso ci sono tanti libri su internet si trova di tutto articoli tra l'altro anche bellissimi fatti da devoti molto bravi quindi adesso non c'è più che uno deve andare per forza da un devoto a fare una domanda perché se no non trova niente da nessun'altra parte il livello di cultura spirituale filosofica della gente in generale si è elevato moltissimo ora io dicevo domande veramente molto complicate veramente molto tecniche dovreste venire alle nostre videoconferenze in spagnolo per rendermi conto che tipo di domande sono sono così devo devo rispondere domande molto complicate dunque per quanto riguarda la fede assoluta nel maestro spirituale beh bisogna bisogna un po' bisogna un po' capire che significa fede assoluta e entra la voce di Nicoletta che saluto però mi entra dentro ho capito ciao Nicoletta è rimasto il microfono acceso scusa però siccome la domanda l'hai fatta tu se vuoi aspetto che finisci la conversazione e ti rispondo no no vai vai oh figura mi ricordo mi ricordo di te adio ciao ciao dunque la fede assoluta nel maestro spirituale e questo è un po' difficile perché prima di rispondere bisogna entrare bisogna chiarire un po' i termini che significa fede che significa assoluta che cosa è un maestro spirituale perché se non si è d'accordo sui termini qualsiasi domanda può essere attaccabile può essere opinabile se esiste questa parola in italiano insomma e dunque diciamo che prima di tutto ci sono maestri spirituali e maestre spirituali ovviamente quando uno parla di maestri spirituali a livello di la propria o di altri la fede assoluta è abbastanza giustificabile ma che significa assoluta assoluta significa che quello che lui dice è giusto indipendentemente dal fatto se lo capiamo oppure no se ci piace accettarlo oppure no questo è un significato della parola fede assoluta per arrivare a questo livello di fede assoluta che uno per essere discepolo deve avere perché se no non deve prendere iniziazione assolutamente non prendere iniziazione a meno che non avete questo livello di fede nel maestro spirituale che avete scelto la fede assoluta nel maestro spirituale è qualcosa che non è come dire che non è preventivo che non è all'inizio non è che tu devi subito avere fede assoluta nel maestro spirituale per accettare un maestro spirituale tu puoi accettare un maestro spirituale senza iniziazione puoi accettare un maestro spirituale e vedere se questo maestro spirituale è qualificato e siccome fanno questa domanda abbastanza spesso spessissimo anzi quali sono le qualifiche di un maestro spirituale e chissà perché nessuno fa la domanda quali sono le qualifiche di un discepolo questo nessuno lo dice nessuno lo viene perché perché è più facile scaricare il barile e dire vediamo se tu sei qualificato senza capire che tu finché tu non sei qualificato come discepolo tu il maestro spirituale autentico non lo potrai mai riconoscere mai perché è come dire come fa una persona che non ha mai visto l'oro a riconoscere se una cosa è oro o un pezzo di plastica giallo se tu non hai un minimo di cultura è ovvio che tu non potrai mai riconoscere che cosa è l'oro alla stessa maniera all'inizio della vita spirituale una delle prime cose che devi fare è accettare un maestro spirituale senza prena iniziazione tu dici questo è un maestro spirituale io ti accetto con riserva con riserva io ti voglio osservare io ti voglio leggere io ti voglio ascoltare nel corso di anni e quando io ho scoperto che tu sei qualificato come ammesso spirituale allora prendo iniziazione da te che cosa è iniziazione adesso avrò una parentesi molto breve perché se no non finiamo mai l'iniziazione è il punto in cui diciamo il punto oltre il quale non ti è più permesso di dubitare del maestro spirituale quando tu prendi iniziazione tu hai come dice Sfaradasi devi avere la fede assoluta nel maestro spirituale prima no prima puoi discutere prima puoi dibattere devi dire senti scusa io ho grande rispetto per te però a me quello che tu dici non mi convince me lo puoi spiegare un po' meglio sei capace di spiegarmelo un po' meglio a questo punto è una cosa più che accettabile che uno sia così ma un devoto iniziato non si può permettere questi lussi perché fa offese gravi e le offese al guru al maestro spirituale si pagano care nella vita spirituale dunque riassumendo all'inizio uno ha una fiducia in uno che è un maestro spirituale che autorità gli hanno dato questo servizio di dare iniziazioni e di insegnare alla gente e hai una fiducia generale e gli dice vediamo un po' questo chi è nel corso del tempo quando questa fiducia è forte allora prendi iniziazione quando prendi iniziazione e qui ci vuole la fede assoluta nel maestro spirituale quali sono le qualifiche di un maestro spirituale si potrebbe parlare fino al dopodomani in diretta senza mai fermarsi dirò soltanto due cose c'è un verso della Munda Copanishad che dice molto chiaramente quali sono le due qualità fondamentali di un maestro spirituale primo deve avere conoscenza assoluta che ha ricevuto da una catena di maestri spirituali se uno non ha avuto un maestro spirituale autentico che non ha questa dietro di sé questa persona deve essere rigettata non deve essere accettata non perdere il vostro tempo prima di tutto e secondo poi voi dovete ascoltare da lui perché non dimenticate che una persona può far finta di essere un maestro spirituale per un po' di tempo poi poi le stupidagge gli escono fuori dalla bocca la sapete la storia dell'asino che fa finta di essere un leone se non la sapete più o meno è una favola che si insegna che quest'asino vede il leone che dice quanto mi piacerebbe da me essere un leone perché mira guarda tutta la gente che va che lo teme che gli offre cose in omaggio e queste cose qua allora lui si travesta dall'eone si mette sul trono e comincia a fare segno alla gente di venire e tutti quanti che lo rispettavano eccetera però alla fine quest'asino proprio non ce la faceva più a non dire qualche cosa e alla fine fu costretto proprio dalla sua natura stessa a parlare e gli venne fuori in un raglio terribile e tutta la gente capirò che quello lì non era un leone era un asino e che quindi era un falso era un ingannatore era un imbroglione e quindi giubbotte dunque un maestro spirituale vuol far finta di essere un maestro spirituale per un po' di tempo poi alla fine le stupinagge gli escono dalla bocca e personalmente ho avuto molte esperienze di cosiddetti maestri spirituali che poi alla fine si sono rivelati da solo da soli per essere quelli che quelli che sono in generale io consiglio di stare molto molto attenti su un maestro spirituale quindi abbiamo detto Shotriyam Shotriyam come il maestro spirituale deve essere uno Shotriyam uno che ha ascoltato conoscenza assoluta che l'ha praticata e che sa spiegarla ad altri secondo deve essere Brahmanishtam Brahmanishtam in sasquito significa che deve essere stabilito solidamente in coscienza di Krishna e non cadere a fare stupidaggini ogni ogni quarto d'ora e questo è anche più difficile perché tanta gente si pone come a me in sospinare e poi cadono perché non ce la fanno non ce la fanno non fanno e questa è l'esperienza che negli anni di coscienza di Krishna ho visto purtroppo mille volte quindi consiglio ai devoti anche di di stare attenti quindi questo per quanto riguarda il maestro spirituale e dunque rispondo rapidamente alla domanda di Ishvari che dice il passaggio da ateo a credente è stato filosofico dovuto alle descrizioni dici la propria o il ma mantra io non credo di essere ancora tuttora credente nel senso cristiano o buddista del termine io so che Krishna esiste io non è che credo in Krishna io lo so perché quello che ho potuto fare in termini di studi e in termini di pratica in termini di limitata la realizzazione che ho della coscienza di Krishna mi permette di non aver bisogno di credere tu hai bisogno di credere quando non hai altro modo di stabilire una cosa o di avere un'esperienza diretta in qualche cosa e quindi e allora hai bisogno di avere fede quando un devoto avanza anche solamente un poco nella vita spirituale già la fede è qualcosa di secondaria è ovvio che io e nessuno di noi può sapere tutto di Krishna ma questa è parte dell'essenza di chi è la suprema personale e questa è parte dell'essenza di Dio nel senso che io per essere devoto non ho bisogno di avere fede in cose che non riesco a capire perché le cose che ho capito sono più che sufficienti per permettermi di essere devoto senza fede Bata Roberto dice che ha grandi problemi a connettermi oggi e peccato spero che 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 è risolto già perché ti vedo online Bata Roberto sta è un devoto fantastico che mi sta dando un servizio quasi a livello di Isvaladas anzi sicuramente a livello di Isvaladas sono anni senza neanche conoscermi chissà per quale ragione mi sta facendo un servizio incredibilmente valido di copiare libri e di fare cose di una stabilità che io non riesco a credere che io non ho mai avuto a parte Isvaladas una persona con una stabilità così forte quindi spero di poterti sentire di sentire o e vedere anche poi il maestro spirituale ha dei dubbi come internet ha cambiato la predica e poi continuiamo allora con il maestro spirituale se il maestro spirituale ha dei dubbi dipende che dubbi che tipo di dubbi nel senso che vediamo di identificare qualche dubbio che il maestro spirituale può avere sì appunto avrei bisogno più di una definizione della parola dubbi me la vuoi dare cosa hai in mente Isvaladas? ma dunque dubbi io intendevo in generale un po' in generale soprattutto ora per quanto riguarda la filosofia penso di no però ecco per quanto riguarda un po' la vita quella materiale che uno deve affrontare con il corpo insomma tutte le vicende della vita sì ecco sì ora sì beh sì per quanto riguarda la coscienza del Cristo ovviamente il maestro spirituale insomma se hai dei dubbi sul fatto di essere devoto o no sul fatto che Krishna esiste o no insomma se ha questi dubbi insomma è un maestro spirituale è un cialtrone scutatemi la parola un po' forte insomma mi viene proprio dal cuore per quanto riguarda le cose della sua vita del servizio è certo che ho dei dubbi tante volte tu lo sai perché ormai sono vent'anni quasi che io e te abbiamo una relazione certe volte spesso settimanale in periodi addirittura quotidiani e tante volte che ho avuto dubbi se fare questo se non fare questo se è giusto farlo abbiamo cambiato tante volte la nostra e dico la nostra la mia e la tua con grande orgoglio tante volte perché perché sì avevo dei dubbi se questa fosse la cosa giusta o no perché non avendo informazioni da Krishna allora io dicevo sarà giusto fare questo o non sarà giusto fare questo una cosa molto interessante che è un'esperienza quasi direi trascendentale che ha chiunque faccia la vita spirituale a un livello accettabile è che tu al momento sei confuso e non sai se fare questo se fare quest'altro perché ti sta succedendo questo perché è una malattia perché quello che fai non ha successo nessuno legge i tuoi libri queste cose qua insomma no e allora i dubbi vengono poi durante il tempo e questa è esperienza mia consolidata nel corso dei decenni di coscienza di Krishna perché poi tu capisci perché al momento tu sei dubbioso sei confuso ma insomma Krishna dammi la mano perché questa cosa qua per quale poi col tempo tu capisci perché io sempre nei momenti più difficili della mia vita io poi ho sempre capito perché mi sono trovato in quelle circostanze o altri devoti perché questo devoto si è trovato in questa circostanza e questa è la parte incredibilmente affascinante interessante della coscienza di Krishna che è una vita piena di significati non è una vita arida che dice vabbè mi godo questo ora domani insomma sono cose so sciocchezzuole una vita basata su sciocchezzuole ecco l'aiuto spirituale è piena e colma di cose forti potenti di comprensioni di realizzazioni filosofiche molto molto forti e che in questo senso è interessante e adesso la lezione io e tanti altri l'abbiamo capita di sospendere il meccanismo del giudizio e aspettare di poterlo capire e col tempo sempre lo capisci dunque senti dal punto di vista invece spirituale non ci sono dubbi proprio in assoluto nemmeno un piccolo dubbio anche per esempio sulle vite successive cioè sui passaggi successivi e queste cose questo questo è difficile di rispondere in maniera che possa essere percepito dagli altri perché è una cosa intima e spesso le cose intime non si possono spiegare perché tu dici vabbè poco nei sogni sì nel senso che quando uno avanza nella vita spirituale giunge a realizzazioni non è fede la fede è qualcosa la fede è qualcosa che si basa su niente tu ci credi perché ti conviene crederci o perché o qualsiasi altra ci credi perché ci devi credere sono nato a Roma che posso essere bruttista sono cattolico no? per ragioni sociali se non sono cristiano non mi danno questo non mi danno il lavoro non posso dire sono Hare Krishna che in azienda mi buttano fuori tutte queste cose così per quanto riguarda per esempio la convinzione se esistono vite pregresse vite future questa è una cosa intima è una realizzazione che uno sa che è vero perché ha percezioni personali o anche di queste cose non si deve parlare infatti non ne parlerò anche delle realizzazioni personali delle esperienze personali quindi io personalmente non ho nessun dubbio né uno nessuno sul concetto dell'eternità dell'anima che implica che non siamo nati in questo corpo e che quindi prima siamo stati in altri corpi e che quando lascerò questo corpo andrò da un'altra parte speriamo in un altro corpo questa è una realizzazione personale però questa realizzazione non la posso comunicarne perché è mia personale è fatta di mille esperienze della mia vita certamente uno potrebbe dire beh allora se tu non mi puoi comunicare la tua esperienza personale di convinzione delle vite precedenti o per un altro insomma dell'eternità dell'anima dammi una spiegazione filosofica si può spiegare filosoficamente si può spiegare certamente quelli che dicono che noi che nasciamo in questo corpo e moriamo in questo corpo non hanno nessuna prova che questo sia così quindi noi partiamo in un dibattito ideale fra uno che crede che questa vita sia un segamento di tempo e non una linea intera contro di quelli che dicono nasciamo e moriamo partiamo dai blocchi uguali cioè non è che gli scienziati che negano l'eternità dell'anima hanno un vantaggio di tipo di tipo intellettuale partiamo qua loro non possono provarlo noi non possiamo provarlo è fede anche quella anche quello che è lo scienziato ma certo quando lo scienziato gli dice che 47 anni luce da qua c'è un pianeta c'è un pianeta che potrebbe ospitare la vita che questo ci credi o non ci credi è ovvio che questo questo poveraccio che se non fa fitto di scoprire qualche cosa gli tolgono lo stipendio no questa è la storia della NASA è fatta di questo è fatta di creare cose inutili solamente per continuare a ricevere 60 miliardi di dollari annuali quindi le prove sono qualcosa qual è la prova che Dio non esiste forse io sfido chiunque non ce l'hanno non credo che qualcuno ce la possa avere anche meno gli scienziati ma certo non c'è nessuna prova che Dio non esiste e certamente non c'è nessuna prova che noi moriamo quando lasciamo questo corpo nessuna non me la vuoi provare e quindi partiamo da un dibattito ideale dallo stesso punto dagli stessi blocchi e noi riusciamo adesso magari ormai sono sono un'ora e venti che siamo qui magari non è il momento di imbarcarci in questo tipo di analisi però vi assicuro che magari un'altra volta un'altra settimana posso arrivare a dare una spiegazione minimamente logica del perché Dio esiste e del perché l'anima spirituale è eterna e se l'anima è eterna non muore con il corpo e non è nata quando ha preso questo corpo Batta Roberto puoi dare la tua domanda a voce? ah no no se solamente mi dicevi che ora va meglio va bene dice che va meglio però non lo vediamo io non lo vedo sì non lo vedo ogni tanto appare ogni tanto appare è un'apparizione dopo c'è adesso ha fatto un'altra domanda a cui devo rispondere come internet ha cambiato la predica ma guarda ci sono tanti devoti che parlano contro di internet perché ci sono tante cose brutte su internet e va bene ci sono pure cose brutte ha pure un coltello insomma il coltello lo puoi usare per tagliare la melanzana o tagliarti il dito dipende da come lo usi insomma no io credo che che deprecare o svalutare il mezzo più poderoso che sia mai stato inventato nella storia dell'umanità sia la sciocchezza perché in questo momento io mi trovo a Porto Rico Isfara d'Alsa si trova in un paese della Toscana Nadia non so dove sta Isfari si trova nel piano di sotto dell'appartamento Ramananda si trova a Bologna a Bartarubberta da qualche parte in Toscana insomma questa conferenza sarebbe stata impossibile noi non avremmo potuto avere il piacere di conversare oggi se non fosse stato per niente né avremmo potuto predicare così tanto in Isfara noi abbiamo predicato letteralmente a milioni di persone noi abbiamo avuto se io dovessi se potessi fare una una casistica una somma delle articoli detti arriveremo tranquillamente a milioni milioni quindi io credo che internet ha cambiato sicuramente la mia vita io ero a Brindavana mi ricordo nel 2001 e Brindavana in India e Brindavana nel posto che mi piace più da qui però c'era una cosa che mi stava qui d'accordo che io non potevo predicare e allora io cercavo la maniera di pubblicare la Brindavana dove la connessione era estremamente difficile e dura qualche volta per connettere se ci voleva dieci minuti e per scaricare la email ci poteva stare anche venti minuti e quindi volevo una maniera automatica che io perché il mio primo sito era un sito dove io avendo studiato un po' di HTML formavo la pagina direttamente dal codice HTML e lo caricavano questo da me andava era impossibile caricare due o tre pagine da HTML con le foto e tutto non era possibile e quindi volevo come un forum e quindi è apparso Isvara Dassa che mi ha costruito il primo forum e grazie a questo forum tanti devoti sono potuti venire a predicare a leggere a studiare a profondire quindi diciamo che la predica per quanto riguarda la mia vita Internet è la benedizione ma più grande che Krishna potesse darmi dunque bene allora facciamo un altro paio di domande in più e poi possiamo concludere ora sì ora con le dirette mi ricordo anni fa fare una diretta era un sogno cercavamo varie tecnologie per poter fare delle dirette video era quasi impossibile oggi praticamente questa cosa si è realizzata perché non ricordi quante volte abbiamo parlato di questo mille volte parecchie volte per anni penso perché lo streaming non si riusciva a farlo era costosissimo c'erano già da tempo che ci sono ma era costosissimo poi calcolando che in questo momento stiamo in diretta anche su Facebook chissà quanta gente sta guardando questa è una cosa veramente ci siamo dimenticati di mettere il link magari da Facebook veniva veniva gente è la prima la prossima volta non ci dimenticheremo di questo magari Ramana la può aiutare su questo Ramana è molto tecnologico sa molto di questo lui fa radio fa siti è molto molto esperto lo so lo so il link sì non l'abbiamo messo io non credo di poterlo fare comunque vabbè tanto la registrazione rimane lì per la prossima volta magari forse lo posso mettere in un commento ma ormai sarei un po' tardi a prima ora 5-10 minuti abbiamo terminato io questa registrazione completa sarà su YouTube domani che resterà lì per sempre e l'audio anche in modo che chi magari guida la macchina se vuole risentirsi alla conferenza può scaricare se lo mette nel telefonino e mentre lui si sente questo è perché Zoom mi permette di fare questo quando termina la conferenza automaticamente scarica il video l'audio e il testo anche automaticamente tutta la chat le domande che avete fatto sarà anche questo su ishfara.org oggi è un esperimento sì è un esperimento anche perché mi sto sorprendendo del mio italiano pensavo che sarebbe stato un disastro invece sta venendo fuori è abbastanza bene bene molto bene l'ultima domanda e poi chiudiamo bene non ci sono domande allora tante grazie per essere venuti io vi do l'appuntamento la prossima settimana alla stessa ora per la conversazione su temi diversi insomma non noi stessi ovviamente non parleremo delle stesse cose e mi auguro che che siate presenti sul mio blog perché viene varie gente e vengono migliaia di persone ogni giorno e quindi grazie tante a lecce a lecce a lecce grazie a tutti